La dad c'è bastata quei tre giorni? Tre giorni andava bene. Per loro è la possibilità di tornare a vivere alcuni spazi di normalità, con relazioni anche con gli altri bambini, compagni, che purtroppo quando sei in casa davanti a un computer hai più difficoltà a vivere. Ritorno sui banchi dopo Pasqua, almeno per i piccoli in Toscana, fino alla prima media in presenza rientrano, anche se siamo in zona rossa, in 300.000. Si tratta di circa 22.000 bambini al nido, 80.000 alla scuola materna, 160.000 alla primaria e circa 33.000 nella prima media, fa sapere la Regione. Il ritorno in presenza ha visto in generale come un sollievo da parte delle famiglie, anche quelle della provincia di Firenze, che a distanza hanno avuto in definitiva solo tre giorni, nell'anno delle mille ripartenze. Diciamo che la DAD è sicuramente uno strumento utile per non farli rimanere, diciamo, da soli, però è molto meglio la scuola in presenza. Importante che ritornano, poi si vedrà in futuro. Parecchi primi giorni di scuola, direi. La DAD c'è bastata? Ma fortunatamente sono stati pochi giorni, quindi diciamo che per loro che fanno una quarta elementare è andata bene così. se si dovesse prolungare sicuramente per i ragazzi più piccoli è un problema.